arrivati in presa in capana presena sulla cima presena notare qui ad accogliermi c'erano due orsi ecco le loro impronte vediamo ci sono qua dietro due orsi bruni vedete le tracce qua dei due orsi meraviglioso un'accoglienza da paura vedete sono andati di qua qua c'è i suoi bei metri di neve adesso un orso sembra andato di là uno di qua vediamo se li vediamo eccolo là guardate un orso là un orso eccolo là l'orso e l'altro è andato giù dall'altra parte eccolo là l'orso ad accogliermi qui grazie super natura sono venuti a darmi buongiorno erano tre orsi allora sono tre impronte sia l'altro dove sarà ottimo spaziale ecco come potete vedere l'orso là che se la corre via non c'è un altro orso ecco